E' Sally? Oh, mi scusi, ma lei somiglia a una che conosco e che si chiama Sally. Davvero? Ecco, vedi, quando uno è stato via sette anni, torna a casa avendo sempre in mente una persona sola e si aspetta di trovarla dopo i primi minuti che è a terra. E' così, è strano però. Le assicuro che non è davvero niente di straordinario. Capisco. Scusi se l'ho disturbata, buonasera. Buonasera.